Ciao ragazzi, oggi cucineremo le castagne al sale grosso, come alla braccia. Prima bisogna tagliare le castagne e mettere dentro l'acqua a tiepida. A tiepida? Sì. Ora bisogna mettere il sale dentro una pentola d'acqua. Si inserite la castagna senza andare troppo in profondità. E prenderle e mettere dentro la pentola del sale. E poi? E poi bisogna metterla a cuocere. Dopo 30 o 20 minuti le tiriamo fuori. Sei soddisfatto? Sì. Con copecchio. Ah, con copecchio. E tutti devono stare a contatto con il sale. Vai. Vai. Vedi, si sta a cuocere. E ora siamo a metà cottura. Si girano. Però è bella, eh. Eh sì. E si rimettono. E? E si rimettono anche qui. Ah, in cottura. Col copecchio. Perfetto. Prendiamo il cucchiaio. E prendiamo le castagne senza prendere il sale. E le mettiamo nel canovaccio pulito. Bravo. E' quella che abbiamo assaggiato come? Era buona. Dopo aver messo dentro il canovaccio, chiudiamo il canovaccio e cerchiamo di un po' aprirle. Ah, senti come scrocchiano. Eh, guarda. E ora quello che faccio è verle. Eh sì. Vedi, questa qua già si è tolta. Eh sì. Facciamo un'altra. Dotto sei imparato a fare così? Verona. Verona. Questo è il risultato finale. E abbiamo messo con il sale perché? Per fare così? Allora, guarda che scotta. Grazie.